E' stato pubblicato nella sezione bandi del sito ufficiale del Parco Nazionale del Cilento, Valo di Viano e Dalburni, un bando di gara relativo a lavori per la realizzazione del sentiero Natura Monte Cervati, con l'adeguamento dei rifugi e delle attrezzature per la fruizione sostenibile. Il progetto di cui ne era trapelata la notizia già all'inizio dell'anno, prevede lavori atti a rendere funzionali, tra le altre cose, anche 7 baite poste nel territorio del parco. Le offerte per partecipare alla gara di appalto dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 16 prossimo luglio. Per i lavori che saranno effettuati, soprattutto nel territorio comunale di Sansa, l'importo stanziato è di circa 224 mila euro. Ma è proprio il sindaco di Sansa, De Mieri, che contattato in merito dalla nostra redazione, ha avanzato un quesito. Ma non sarebbe più appropriato rafforzare e mettere in sicurezza le infrastrutture già presenti sul territorio per renderlo più fruibile? Il sindaco fa riferimento alla strada che conduce al Monte Cervati, per la quale ha richiesto da tempo un finanziamento anche alla regione Campania. Quella strada è da molte persone utilizzata anche per raggiungere il santuario della Madonna del Latte. Sarebbe almeno una consolazione per la cittadina di Sansa e per i diversi appassionati delle bellezze naturali del Cervati, visto che ormai possiamo definire caduto nel dimenticato il megaprogetto di circa 50 milioni di euro, che prevedeva la realizzazione di moderni impianti sciistici sulla vetta più alta della regione Campania. Il nostro territorio ha dichiarato il sindaco De Mieri ricco di bellezze che stimolano la progettualità, la quale però non può trovare nessuna forma realizzativa se prima non vengono finanziate le infrastrutture necessarie a poter rendere accessibili a tutti posti meravigliosi come ad esempio il Monte Cervati.